Presidente del Comitato di Quartiere Corso 22 marzo, con la costanza di una sentinella, avversa ogni forma di degrado del quartiere, chiede sicurezza, aiuta le persone delle case popolari, si impegna a leggere pulita la palazzina liberi da graffiti e da altri vandalisti. Buonasera a tutti, io volevo ringraziare particolarmente il Comitato di Quartiere 22 marzo perché mi supporta e mi sopporta in tutto quello che facciamo. E' un'altra cosa che volevo aggiungere, cioè praticamente lanciare un messaggio a tutti coloro che hanno del tempo a disposizione, praticamente questo tempo, di dedicarlo ai quartieri e alla neonata città metropolitana che ne ha molto bisogno. Grazie. Grazie.